24 persone sono state arrestate all'alba Taranto in provincia dalla polizia a chiusura dell'operazione antidroga denominata Centauro, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Gli inquirenti ritengono di aver smantellato un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti che sarebbe stata capeggiata dal tarantino Giulio Modeo, figlio del boss Claudio e nipote di Tonino Modeo, detto il messicano ucciso a Bilcei e a Bari nell'agosto del 90. Giulio Modeo, secondo gli inquirenti, aveva allestito un notevole traffico di sostanze stupefacenti che venivano acquistate nelle province di Bari e Brindisi e ricollocate successivamente sul mercato locale. Sono stati sequestrati complessivamente 4 kg di eroina ed 1 kg di cocaina. Il trasporto della droga avveniva tra le province su moto di grossa cilindrata, da qui il nome dell'operazione. Tutto è iniziato dal ritrovamento di un panetto di eroina nascosto in uno stabile di Paolo VI di proprietà di Modeo, ancora in ristrutturazione. La droga era nascosta tra il muro e l'ascensore. Da qui l'inizio delle indagini. In manette sono finite 24 persone, di cui 3 ai domiciliari. Questi i nomi dei tarantini. E poi ci sono due baresi, Giovanna Trillo e Nicola Fanelli e infine anche un brindisino, Francesco Molinaro. Un'operazione importante, ha detto il procuratore capo della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta. Un'operazione che ha smantellato un gruppo che aveva un forte controllo di tutto il territorio, smantellato grazie alle intercettazioni telefoniche ambientali e all'ottimo lavoro della squadra mobile di Taranto.